Ben ritrovati. In questa undicesima lezione esaminiamo un periodo di circa un secolo, che va grossomodo dal 1520 al 1620. Inutile che vi dica che ovviamente è anche questo un secolo ricco di contenuti per quanto riguarda la storia della tecnologia e in generale le storie collegate. Allora, come al solito disattivo la mia telecamera. Fatto e iniziamo. Eccoci qua. Allora, il secolo in questione poi si estenderà anche più in là, come vedremo, a quello che vede l'espansione del rinascimento italiano, un fenomeno inizialmente esquisitamente italiano, poi tedesco, gradualmente in Europa centrale e stentrionale, verso la Francia, le Fiandre, la Germania e più tardi vedremo che arriverà anche in Inghilterra, si espanderà verso est in Bohemia, comunque aree di influenza e di cultura tedesca, oltre che slava. Va bene. E in questo periodo avviene un fatto fondamentale da un punto di vista etico-religioso che ha i suoi fondamenti nella frammentazione politica che ormai si è consolidata. Nel centro dell'Europa c'è ancora formalmente un sacro romano impero, ma in realtà c'è un'elevata frammentazione e conflittualità tra i vari principati tedeschi che nominalmente fanno parte dell'impero. Principati che sono ansiosi molto spesso di sottrarsi all'influenza dell'imperatore. L'imperatore, crediamoci, è cattolico e mantiene rapporti di stretta collaborazione con la Chiesa cattolica. È in questo contesto che a Martin Lutero emana l'editto di Wittenberg, cosiddetto le 95 tesi contro le indulgenze papali che protestano contro il malcostume della Chiesa di Roma che fa commercio appunto delle promesse di salvezza eterna. La protesta, qui nasce appunto protestantesimo, di Martin Lutero, trova il sostegno di quei principi tedeschi di cui dicevo prima e quindi trova un forte supporto politico, ma non c'è solo questo. Esiste anche uno strumento potentissimo di diffusione delle idee che ha a disposizione Lutero ed è la stampa, la stampa caratteri mobili, che fa sì che le sue tesi vengano rapidamente diffuse in gran parte dell'Europa. E con questo inizia la riforma protestante, che infiammerà sempre di più l'Europa, lo vedremo più avanti, che cosa succederà per ora, limitiamoci a vedere la reazione della Chiesa romana, nel 1542 viene istituita l'Inquisizione romana. Avevamo già parlato di Inquisizione spagnola, più o meno un secolo prima, adesso c'è anche quella romana, condotta dal Santo Ufficio, che deve fare che cosa? Ovviamente la lotta all'eresia è prima di tutto quella luterana, ma in realtà, come già era successo secoli prima, è anche un'occasione per perseguitare le forme di pensiero difformi da quelle istituite dalla Chiesa, anche in ambiti che non sono squisitamente religiosi. Ne rimane vittima, come sappiamo, Giordano Bruno, che immaginava un universo popolato da mille mondi, tutti degni di una loro creazione. Ne rimane vittima Giulio Cesare Vanini, che è un filosofo, più o meno negli stessi anni, come vedete. Spero che ci sono attivo il mio solito puntatore. Eccolo qua, Vanini. Ma in realtà il numero di persone perseguitate è estremamente ampio, processati, spesso costretti alla viura, spesso sottoposti a tortura, e nei casi estremi, come dicevo prima, addirittura la pena capitale. Ne rimane vittima Cardano, che è uno dei più importanti scienziati, forse il più importante scienziato del secolo, e lo ritroveremo presto. Tra l'altro, come vedete, fu anche a Padova, ma Milano e Pavia. Michel De Bay, un filosofo a Lovagno, nelle Fiandre. Paolo Sarpi, filosofo a Padova, e poi grande erudito della Repubblica Veneta. Tommaso Campanella, Giovanni della Porta, qua siamo invece nel sud dell'Italia, e ovviamente su tutti Galileo Galilei, che a un certo punto, come sappiamo, sarà costretto la viura ormai in tarda età, per avere sostenuto le sue idee astronomiche. Bene, che andavano però in conflitto con quello che era l'interpretazione della Chiesa Cattolica delle Sacre Scritture. Altro fatto dell'Inquisizione romana, ovviamente queste posizioni diventano un freno alla diffusione delle nuove idee, per cui l'Italia, che era stata una fucina di innovazioni durante il Primo Rinascimento, adesso vede cedere il passo ad altri paesi in questo campo, dove si respirano aria di maggiore libertà. Molto spesso i pensatori di questo secolo, di quelli successivi, si guarderanno bene dal pubblicare i loro libri quando li penseranno troppo rivoluzionari. Cartesio, ad esempio, a un certo punto andrà in Svezia a vivere con un ingaggio reale, e lo stesso Copernico, lo vedremo magari più avanti, prima di pubblicare il suo libro, tarderà molto e lo vedrà solo stampato quando è sul letto di morte. Altra istituzione della Chiesa romana in questo contesto è l'Indice dei libri proibiti, un catalogo di libri che contengono idee difformi dall'insegnamento della Chiesa, o comunque pericolosi per quello che è l'insegnamento della Chiesa, e quindi non devono essere distribuiti, stampati, letti dai credenti. Pensate che è stato abolito, vedete, istituito nel 1559, è abolito non tantissimi anni fa. Io avevo undici anni quando è stato abolito, quindi per secoli è rimasto. E per secoli, in questo Indice dei libri proibiti, sono stati elencati alcuni dei maggiori libri, delle maggiori opere della scienza e della cultura occidentale. In realtà, con qualche espediente, si riesce a leggerli lo stesso i libri, non è che siano totalmente inaccessibili, specialmente magari se ci si sposta in Olanda, che sta diventando un paese straordinariamente tollerante rispetto a quelli che sono gli standard dei paesi europei dell'epoca. Infiammano le guerre di religione, il paese che ne è per primo sconvolto più di tutti è la Francia, vedete che per una quarantina di anni si assiste a una escalation di violenze tra cattolici e protestanti, che lì si chiamano Ugonotti, sono i calvinisti francesi, e che ha un apice nella notte di San Bartolomeo a Parigi, durante la quale vengono massacrati, si stima, tra 5.000 e 30.000 calvinisti, appunto, Ugonotti. Finalmente nel 1598 sale al trono un re Ugonotto, Enrico IV, e per salire al re, scusate, per salire al trono deve convertirsi al cattolicesimo, ecco il re che ha detto Parigi val pure una messa, no? La messa vuol dire diventare cattolico, Parigi è il simbolo della corona francese. E, diventato re, emana l'editto di Nantes che riconosce libertà di culto. Pone un termine, purtroppo temporaneo, alle persecuzioni contro i protestanti francesi, contro gli Ugonotti. Però in altre regioni, in altri paesi d'Europa, le guerre di religioni continuano, vedremo a un certo punto in che cosa sfoceranno. Per quanto ci riguarda, ovviamente. Bene, in questo contesto socio-politico, che cosa avviene? Da un punto di vista più tecnico. Venezia afferma sempre di più il proprio premato europeo nella produzione dei vetri. I vetri veneziani, di cui abbiamo già parlato, sono i migliori d'Europa e vengono esportati e venduti a carissimo prezzo, appunto, in giro per l'Europa. Vedremo che cosa succederà in Francia a un certo punto con queste posizioni, con queste esportazioni. Nel 1547, per difendere i propri primati, i propri segreti industriali di produzione dei vetri, vengono emanate leggi severissime che impediscono ai maestri vetrai di espatriare, andare negli altri paesi da dove arrivavano degli ingaggi, delle offerte di lavoro estremamente remunerative per evidenti motivi. Ovviamente sono trattati come una categoria molto speciale, i vetrai veneziani a Venezia, ma vivono un po' da reclusi nella loro patria. Non tutte le scuole vetrarie italiane lavorano in questo modo, ad esempio ad Altare, a Savona, vengono chiaramente diffuse le conoscenze di lavorazione, anche lì ci sono delle eccellenti scuole vetraie, quindi queste produzioni italiane del vetro sono sicuramente di primissimo piano, ma ci sono anche altre produzioni industriali, ad esempio le ceramiche dell'Italia centrale sono altrettanto ambiti, quindi permettono un flusso finanziario notevole, nonostante il contesto socio-ideologico-politico di cui vi ho già parlato. Altre lavorazioni notevoli che appaiono in questo periodo proprio in Italia sono quelle della lavorazione a freddo dei metalli, compresse, molto potenti, che permettono ad esempio di stampare dei medaglioni come quello che vedete lì e sono tipicamente sigilli prodotti per i papi, qua vedete i nomi di tre di questi tecnologi artisti che realizzavano questo tipo di prodotti. La pressa metallica capace di esercitare, per metalli capace di esercitare queste pressioni a un certo punto avrà degli sviluppi molto importanti in ambito industriale, quindi è una premessa di sviluppi futuri questa. E arriviamo a Girolamo Cardano che ho già citato prima, Girolamo Cardano come vedete vive proprio all'interno del Cinquecento, all'inizio è studente a Padova e diventa anche rettore perché vi sembrerà una cosa strana ma a quell'epoca le università erano nelle mani degli studenti e quindi erano gli studenti che sceglievano chi le governava, il capo supremo e il rettore. Poi una volta laureato diventerà professore a Milano, a Pavia e a Bologna con una, vedete, una vita errante e sarà una persona che per primo coniugherà nel mondo universitario gli interessi teorici a quegli applicativi. Quindi sposa sì la tradizione teorica ma vi introduce anche delle curiosità di tipo tecnico. È un matematico, un medico, un chimico, anche un mago si diverte a fare le previsioni astrologiche alle persone che gli lo chiedono ma è anche un tecnico e in questa sua combinazione di interessi scientifici con quegli applicativi tecnici è uno dei primi che coglie il messaggio di Leonardo. Vediamo che cosa fa da un punto di vista matematico. Ricordiamoci che la matematica è sì una scienza quando pensiamo alla speculazione astratta, alla dimostrazione dei teoremi e queste cose, però quando diventa uno strumento di quantificazione allora è anche tecnologia. Allora, Cardano scrive Lars Magna, è il più importante trattato di matematica del secolo in cui generalizza, propone degli sviluppi nuovi. Si cominciano già a risolvere le equazioni di terzo grado in modo parziale, lui le generalizza, in realtà ci avevano già provato e con successo gli arabi a fare queste cose, ricordiamo, c'erano molti secoli prima. Addirittura propone la soluzione delle equazioni di quarto grado e nel fare queste cose introduce anche delle tecniche numeriche nuove come i procedimenti numerici iterativi e poi anche intuisce per primo il fatto che i numeri complessi abbiano un significato, abbiano una loro validità. In altre parole, proprio nel cercare di risolvere l'equazione di terzo e quarto grado si trova nelle condizioni di dare un senso alla radice di meno uno, ad esempio, che non è un'assurdità matematica ma ha un suo significato. Iniziano a comparire numeri complessi, ignorati e rifiutati per secoli e millenni da tutti, ovviamente dai matematici greci anzitutto, e che oggi noi invece manipoliamo tranquillamente, pensate all'uso che noi facciamo nel calcolo simbolico delle reti. Scrive anche il primo trattato di probabilità, era interessato al gioco d'azzardo, quindi gli serviva applicarlo lì, quindi vedete in questo caso è proprio tecnica, non c'è dubbio, e queste sono le sue notevoli, i risultati notevoli che ho tenuto in campo matematico, ma vi dicevo è anche un tecnico e in questo è tra i primissimi a riprendere in Europa il metodo sperimentale, coniugandolo appunto con quegli scientifici. Quindi studia una serratura a combinazione, che adesso quando vi faccio vedere, credetemi, e in un trattato del 1547 de subtitolati presenta la sospensione cardanica. Ecco, la sospensione cardanica in realtà esisteva già, ve l'ho citata in epoca alessandrina, durante l'ellenismo, e lui la riprende, questa idea e la ripropone, vi ricordo che è questo dispositivo, un doppio incardinamento di un pezzo sospeso, in questo caso la bussola, su due assi ortogonali, uno è questo e uno è questo, qua si vedono chiaramente i due perni di incardinamento, qua ce ne sono altri due evidentemente, e qual è il risultato di tutto questo? Il risultato è di mantenere la bussola perfettamente orizzontale a prescindere da come si muove il piano di appoggio del treppiede. Nel 1567 De Veritate Rerum elabora questo concetto proponendo quello che noi chiamiamo giunto cardanico, altrove viene chiamato giunto universale ed è questo dispositivo qui, quindi vedete i due assi di incardinamento ci sono ma servono in questo caso non a mantenere una posizione ma a trasmettere il moto tra due elementi che hanno gli assi di rotazione non allineati. Il meccanismo, questo lo vedete, l'attualità viene usato numero di applicazioni anche oggi e speravo di farvi vedere l'azionamento e per forse vediamo se riusciamo ad attivarlo eccolo qua ecco vedete nonostante i due pezzi qua sono addirittura tre abbiano gli assi non allineati il doppio giunto cardanico qua ce n'è due permette la trasmissione del moto senza difficoltà. Spostiamoci in Germania in Germania sta fiorendo in piena fioritura il rinascimento tedesco e in particolare le tecniche che fioriscono qui sono in primis quelle legate alla metallurgia quindi le tecniche minerarie e la lavorazione dei metalli e ci sono città particolari che ne beneficiano si arricchiscono immensamente oltre che dai commerci convenzionali e in particolare Augusta e Anversa sono beh Anversa ovviamente siamo nelle fianze siamo più a nord ma per in particolare Augusta dove hanno casa due casate scusate il visticcio di artigiani che si arricchiscono e diventano a un certo punto banchieri i Fugger e i Welser che avranno un ruolo fondamentale nelle politiche nelle politiche tedesche le ritroveremo più avanti sono quelli che alimentano le prime forme di sviluppo industriale appunto all'interno dell'impero e poi finanzieranno anche le imprese coloniali dell'impero in anzi negli stessi anni in America Venezuela è stato colonizzato dagli spagnoli proprio in questo periodo con soldi finanziati concessi da queste grande casate di finanziatori di banchieri e questo è un altro sviluppo invece estremamente interessante di che cosa si arrivava a fare con la meccanica in Germania siamo a Norimberga e il signor Heinlein qua ci sono alcune rivendicazioni sulla paternità ma di solito viene presentato lui come realizzatore inventore di questo orologio miniaturizzato è molto piccolo qui ne vedete le dimensioni quindi si tratta veramente di micromeccanica per gli standard dell'epoca ovviamente non è una meccanica di precisione come la intendiamo adesso ma per allora era una meraviglia della tecnica veramente e questo punto questa realizzazione testimonia il primato che ha in queste realizzazioni meccaniche di precisione la città tedesca un primato che presto si espande anche in altre direzioni con in realtà tramite processi di trafugamento industriale pensate a quello che vi ho detto prima per il vetro veneziano anche altri segreti come questo avevano bisogno di essere protetti qua non viene protetto molto per cui la tecnologia a un certo punto arriva in Svizzera e darà il via alla grande tradizione orologiaia svizzera che conosciamo bene adesso vi vorrei far vedere come funzionava questo oggetto questa è un'animazione speriamo che tutto vada bene eccolo qua adesso tra un attimo lo vedremo aprirsi e così vedrete il meccanismo in movimento in azione in cui riconosciamo i componenti fondamentali che già vi ho descritto che qui hanno la caratteristica di essere appunto miniaturizzati ricordate che il diametro sono circa 4 cm e mezzo lo dico adesso affinato che aspettiamo che vedere come funziona la meccanica è la tecnologia di avanguardia di tutti questi secoli di elettricità non si parla la chimica è agli albori vedete che c'è una lancetta sola ancora permane il problema della precisione di funzionamento che non giustifica l'uso della lancetta dei minuti ecco qua lo vediamo aperto quello che vedete oscillare è il bilanciere del meccanismo a scappamento in questo caso con una forma circolare e qui vedete il conoide per mantenere costante la coppia che aziona il meccanismo il tamburo all'interno del quale c'è la molla che fornisce l'energia meccanica a tutto il meccanismo e un cordino a noi appare un po' glossolano trasmette il movimento appunto dal tamburo dentro la molla al conoide e poi ci sono tutti gli altri ingranaggi le ruote di duttrici eccetera eccetera bene direi che può bastare abbiamo visto come funziona quindi riprendo il mio indicatore e andiamo avanti a Norimberga in questi anni fiorisce la figura forse del più grande artista rinascimentale tedesco Albrecht Dürer che è una specie di Leonardo tedesco è un grandissimo artista le sue opere meravigliano ancora le sue pitture i suoi disegni ma è anche un tecnico molto interessato agli sviluppi della meccanica infatti vedete scrive un trattato su compasso e squadra per la divulgazione appunto delle conoscenze tecniche poi un trattato sulle fortificazioni perché l'interesse delle fortificazioni perché il nord Italia vedremo questa cosa anche più avanti la Germania l'Austria si sentono minacciati dall'espansione dell'impero ottomano che ormai sta dilagando nella penisola balcanica ha sottomesso sta sottoponendo in questi anni vari regni come quello ungherese e quindi l'esigenza di non fare la fine di Costantinopoli è sentita fortemente 1528 trattato sulle proporzioni del corpo umano quindi vedete attenzione alla tecnica e anche al disegno come in come in Leonardo non è un caso che Dürer si sia formato anche in Italia abbia fatto più di un viaggio nel nostro paese in particolare con lunghe permanenze a Venezia era un polo culturale artistico di riferimento l'Italia rimaneva continuava ad esserlo anche se stava scivolando in una fase di decadenza altra cosa tedesca la realizzazione del naspo rotativo pedaliera per filatura abbiamo già parlato del filatoio rotativo ecco a questo punto viene perfezionato da John Jürgen come vedete che è un artigiano tedesco in realtà disegno di questo tipo c'era nei codici di Leonardo non sappiamo se Jürgen l'ha inventato di sana pianta oppure se si sia ispirato a Leonardo in realtà era già disegnato lo scrivo qua sotto vedete in una bibbia di pochi anni prima qual è la cosa importante che recepisce l'idea di Leonardo cioè il fatto di avere una macchina che esegue filatura e bobinatura contemporaneamente in modo automatico tenendo le mani più libere e automatizzando in questo un lavoro un processo che ve l'ho già accennato lo rivedremo trova pieno asilo nella rivoluzione industriale inglese ma i prodromi si vedono già in queste macchine del Cinquecento altre invenzioni di quest'epoca sono la comparsa delle miscele frigorifere quindi la possibilità di raffreddare senza usare le ghiacciaie dove si metteva la neve e il ghiaccio invernali per tenere freddo l'ambiente anche d'estate e che avranno una lunga vita comunque acquedotti di distribuzione dell'acqua nelle città cose che erano scomparse da secoli la conoscevano i romani lo sappiamo bene ma le città dell'alto medioevo di tutto il medioevo anzi qua ormai siamo fuori dal medioevo non le conoscevano quelle cose la matita viene inventata in quest'epoca che è un'innovazione originale ovviamente con la diffusione della scrittura e dei libri diventa anche uno strumento molto importante il solcometro il solcometro è questo strumento è il tachimetro marino lo strumento per misurare la velocità delle navi è fatto da un freno idraulico che è questa cosa lì e da una cima dotata di nodi lo scorrere dei nodi in 30 secondi ad esempio in un minuto misurati con una flessidra sabbia definiva appunto la velocità e ancora oggi come sappiamo le velocità marine si misurano in nodi viene proprio da qua si riscoprono anche macchine note nell'antichità in particolare le ruote calcatorie questa è una ruota calcatoria questo modellino che si può vedere in un diorama del solito Deutsche Museum di Monaco bellissimo museo ve lo ricordo ma la vedete riprodotta anche in questo quadro di un artista fiammingo Peter Bruegel il vecchio in questo caso del 1563 vedete l'attenzione di Bruegel si chiama la torre di Babele questo dipinto quello che vedete è solo un dettaglio ma fare vedere tutte le tecnologie che servivano che lui immaginava fossero servite a quell'epoca in quell'epoca antica per edificare la torre di Babele vuol dire che lui aveva ben presente l'utilità di queste macchine lui uomo del Cinquecento l'interesse per la metallurgia è anche accompagnato dalla scoperta di metalli nuovi ce ne sono quattro noti ce ne sono scusate sono cinque quelli fatemi fare i conti chiedo scusa quattro cinque sette no vabbè adesso non mi metto a contarli ma insomma vengono scoperti nuovi metalli che ampiano la possibilità di sviluppo di utilizzo tecnologico ve li elenco qui antimonio bismuto arsenico zinco e poi anche il platino preziosissimo scoperto proprio in Messico chiamato così perché è il piccolo plata il plata è l'argento per gli spagnoli viene da lì la parola platino e qua ne vedete dei campioni riprodotti questi metalli vengono spesso lavorati estratti ridotti isolati con uso di tecniche nuove che fanno anche uso di acidi come vedete quelli che cito di sotto quindi l'utilizzo dei metalli sta crescendo per vari motivi c'è un interesse nella meccanica ma il settore di impiego più importante che ne motiva un uso sempre più massiccio sono le armi da fuoco le armi da fuoco devono essere realizzate necessariamente in metallo si può pensare di fare una canna un meccanismo di sparo in legno e le stime che sono state fatte dicono che nel giro di poco meno di un secolo come vedete di meno di un secolo la produzione di ferro in Europa si è addirittura quadriplicata e per il 1540 si porta a 100.000 tonnellate ovviamente il ferro sta diventando il metallo più importante non che il rame il bronzo non lo siano ma a questo punto il ferro lo sta superando ovviamente questa grande domanda di metalli si fa sentire anzitutto sulle attività estratifere in miniera miniera che per poter continuare a fornire i minerali metallici devono diventare sempre più profonde nell'inseguimento delle vene metallifere appunto quindi bisogna scavare pozzi sempre più profondi si arriva anche addirittura a 150 metri 150 metri di profondità per allora erano veramente tantissimi e queste profondità presentano fanno nascere due nuovi problemi il primo c'erano anche nell'antichità a dir la verità nelle miniere romane ma la cultura europea adesso occidentale li sta riscoprendo il primo è il problema di sollevare i minerali dalla profondità dei cunicoli fino alla superficie e pesano i minerali ovviamente quindi portarli a schiena è una fatica impossibile ma il problema ancora più grave è quello del drenaggio dell'acqua perché miniere profonde in terreni tutto sommato umidi come sono quelli europei centro europei tendono rapidamente ad allagarsi e solo se vengono evacuate continuamente dall'acqua se si drena l'acqua con continuità possono essere mantenute operative come si fa a risolvere questi problemi ovviamente servono delle pompe efficienti per farlo questa si chiama pompa a palle le palle sono queste sono collegate da una catena e la catena con le palle trascinata da queste ruote particolari azionate da meccanismi poi un attimo vediamo subito come vengono portate in profondità e ritornando in superficie transitano all'interno di tubazioni in questo caso è un tronco cavo vedete e quindi imprigionano l'acqua che viene trattenuta tra due palle portandola in superficie pompa a palle ma ci sono anche pompe di tipo diverso ve le farò vedere a nori eccetera come vengono azionate tutte queste questi meccanismi che servono per sollevare l'acqua per sollevare i minerali si possono usare animali in particolare cavalli che hanno forte tiro ma costano molto i cavalli quando si può si usa un meccanismo che invece come costi di esercizio è molto più economico la ruota idraulica ovviamente che trova impiego quindi anche in questo settore infatti la vedete qui è questa grande ruota che sta qui dietro in questo caso è una ruota a cassette che aziona appunto il meccanismo bene queste stampe che vedete ci fanno vedere altri tipi di pompe usate sempre con la stessa finalità sono stampe dell'epoca tra un po' vi farò vedere dove compaiono comunque vedete 1556 questa è una noria una pompa a secchi e i secchi vengono trascinati dalla solita catena quindi si immergono in profondità sollevano l'acqua e poi la scaricano su una opportuna canaletta e l'azionamento è fatto con una ruota idraulica lo vedete benissimo queste invece sono pompe aspiranti e prementi un pochino figlie della pompa di Ctesibio se vogliamo ma l'azionamento come vedete avviene sempre tramite una ruota idraulica e questo è il getto d'acqua che viene pompato fuori in superficie bene quindi le miniere hanno sempre più bisogno di tecnologia non solo questa ma anche un'altra tecnologia muovere i minerali nei cunicoli stretti angusti in profondità per portarli verso il punto di prelievo del montacarichi azionato dalla ruota idraulica non è detto che sia tanto facile anche di solito è molto complicato il fondo dei cunicoli può essere molto sconnesso e allora che cosa si fa? Si inventa un sistema per far scorrere facilmente i carrelli in miniera si inventano i binari i binari che oggi noi associamo ai treni in superficie sono nati proprio nelle attività minerarie come vedete proprio in questo periodo e proprio in Germania in Alsazia che è una regione di confine tedesca verso la Francia come sapete è una soluzione molto intelligente perché invece di spianare completamente la pavimentazione del cunicolo occorre basta basta rendere scorrevole il punto in cui fanno contatto le ruote che sono sagomate opportunamente a questo fine questa è una stampa dell'epoca e questa invece è la solita riproduzione museale sempre al solito Deutsche Museum è una soluzione che gradualmente si diffonde in altre regioni europee e per il finire del secolo è già arrivata in Inghilterra e viene usata nelle prime miniere di carbone inglese di cui avremo modo di parlare ovviamente dimostrazione che è una soluzione certamente di successo e per secoli l'impiego dei binari sarà proprio questo a servizio delle miniere dentro nei cunicoli ed eventualmente per lo smistamento dei minerali appena fuori dalla miniera altre innovazioni sempre legate alla metallurgia l'invenzione di grandi mantici a scatola ne vedete riprodotto ancora una volta questo è uno in stampa e qua lo vedete invece in una esibizione museale questa volta siamo in Inghilterra ma il concetto è lo stesso azionati tipicamente da ruote idrauliche che che cosa devono fare devono soffiare grandi quantità di aria e quindi di ossigeno nel forno per elevare la temperatura di diffusione allora di tutto questo patrimonio metallurgico si fa tesoro fanno tesoro degli studiosi dei tecnici per scrivere i primi trattati europei su queste materie il primo è un italiano si chiama Vannoccio Biringuccio come vedete lui è un senese se ricordo bene si è un senese però vive a lungo in Germania quindi viene a contatto con queste tecnologie tedesche che sono le più avanzate al mondo e dopo avere fatto tesoro di queste conoscenze scrive questo trattato la della pirotecnia pubblicato postumo ci mette tanto a scriverlo avrà stampato solo dopo che lui è morto come potete vedere è morto nel 1937 è stampato nel 1940 ed è il primo trattato moderno sulla metallurgia sull'estrazione dei metalli sulla chimica metallurgica sulla lavorazione dei metalli e parla di tutti i metalli utili allora quindi vedete rame piombo stagno rame stagno ovviamente servono per fare il bronzo oro argento e le leghe quindi anche l'acciaio lo zinco e così via descrive anche le tecniche di lavorazione per fusione che sono utili applicazione pacifica nelle campane applicazione meno pacifica la tecnica però è molto simile per i cannoni in bronzo di cui vi ho già parlato e parla anche di chimica inorganica dell'uso dell'acido solforico che trova impiego proprio in queste lavorazioni della produzione viene stampato trattato a stampa non può che essere così ormai siamo nel pieno boom della stampa lo sappiamo a Venezia a Firenze a Roma e si diffonde rapidamente ed è un esempio notevolissimo della letteratura tecnica che sta nascendo figlia dei primi libri tecnici di quegli ingegneri di cui vi ho parlato la volta scorsa nella lezione scorsa che hanno un ruolo fondamentale nel diffondere le tecnologie sia quelle autotone inventate sul posto sia quelle importate in questo caso appunto Biringuccio porta dalla Germania le sue conoscenze ma la cosa importante è che per diventare esperti nel fare queste cose non occorre più andare a bottega nelle botteghe gestite dalle corporazioni come succedeva ancora un secolo prima ma si può imparare tutto comprando questi libri e studiandosi ancora più famoso del libro di Biringuccio è il libro di agricola agricola in realtà si chiama Georg Bauer ma Bauer in tedesco vuol dire agricoltore e come spesso succedeva allora la cultura di riferimento era quella italiano-latina e questi personaggi tedeschi ma anche non solo tedeschi anche fiamminghi lo vedremo amano latinizzare e italianizzare il loro nome per dargli maggiore dignità è un po' come adesso quando la gente dalle nostre parti ama darsi un nome inglese ci sono varie aziende molto venete molto italiane che hanno nomi molto inglesi invece è un processo inverso allora anche questo era un medico un dotto un umanista come vedete scienziato ingegnere e lui ha fatto anche lui la sua formazione in Italia non a caso poi va a chiamarsi agricola a Bologna è studente a Padova come vedete e anche lui sul finire della sua vita scrive questo libro che esce postumo un anno dopo la morte il De Re Metallica formato da 12 libri è un tomo che si trova anche adesso riprodotto in copia anastatica senza spendere tanti soldi in cui si possono vedere le stampe che vi ho fatto vedere prima ed altre ancora tutto quello che lui ha scritto ed è un trattato veramente enciclopedico e sistematico fa le cose alla tedesca descrive proprio tutto raccoglie tutto lo scibile contemporaneo occidentale sulle miniere sulla lavorazione dei metalli sulla produzione metallurgica e su come si lavorano si fondono i metalli eccetera tratta anche dei metalli ostici come l'antimonio il dismuto lo zinco come vedete ed è per la prima volta appunto ecco qua lo zinco che viene trattato come metallo indipendente in Europa non è l'unico c'è un terzo personaggio non ve lo cito è di minore importanza rispetto ai primi due insomma si colloca in questa linea in questo caso è un boemo Lazarus Ecker che anche lui scrive il suo trattato sui metalli e tutto questo segna un modo nuovo di concepire il rapporto tra uomo e metallo con le implicazioni e gli sviluppi che porteranno a tante cose importanti non solo in campo bellico nelle armi da fuoco ovviamente nei secoli successivi ecco sempre per approfondire un attimo la conoscenza con il trattato di Bauer di Agricola il De Re Metallica queste sono alcune stampe che compaiono e scusate ma ogni tanto suona inopportunamente il telefono ecco abbiamo fermato e vedete le orghi agricole De Re Metallica Libri 12 questa è una macchina per macinare i metalli e i minerali chiedo scusa e quindi per facilitare poi l'operazione di fusione fatta da da dei magli verticali azionati da alberi a camme e questi sono mossi da una ruota idraulica come al solito questi sono i forni di fusione e qui non mi ricordo più che cosa c'è alla lavorazione al maglio qua vedete proprio un fabbro che sta lavorando al maglio e qua un altro fabbro che fa la stessa cosa e così via andiamo adesso a fare un po' per parlato della Germania facciamo un salto più a nord andiamo nei Paesi Bassi che cosa succede nei Paesi Bassi i Paesi Bassi si trovano sotto la dominazione spagnola per ragioni dinastiche perché un principe fiammingo ha sposato una principessa spagnola e ne è nato Carlo V e via e via tutte queste cose imperatore che dominava su gran parte dell'Europa ma ovviamente ai Paesi Bassi in particolare all'Olanda questa dominazione spagnola perché questa è diventata a un certo punto sta sempre più stretta sta sempre più stretta aveva un Paese in enorme espansione economica ha preso la strada di un'agricoltura moderna ormai decisamente ve ne ho già parlato in una lezione precedente ha un notevolissimo sviluppo artigianale in particolare produzione tessile in particolare delle lane lane che venivano dall'Inghilterra a quell'epoca lana era lana l'Inghilterra era un Paese di pecorai letteralmente fornivano fornivano la lana i fiamminghi gli olandesi la lavoravano la trasformavano in fibre in tessuti e ci guadagnavano moltissimo gli inglesi ci metteranno un po' a capire che forse possono svegliarsi possono fare le loro certe cose per ora sono produttori di lana e basta pecorai e accanto a questo ovviamente un enorme sviluppo commerciale anche perché succede una cosa i porti fiamminghi olandesi in particolare Anversa e Amsterdam sono i porti di approdo dove arrivano le flotte commerciali spagnole a un certo punto anche quelle portoghesi perché il Portogallo rientrerà proprio nella seconda metà del Cinquecento sotto la corona spagnola anche lui le flotte commerciali cariche di beni che vengono da oltreoceano sia dall'America ne abbiamo parlato la volta scorsa sia dall'estremo Oriente e da lì vengono diffusi e commerciati in giro per l'Europa ovviamente in questo subentrano a Venezia e Genova che vedono collassare i propri commerci le rotte terrestri che fanno capo poi a Levante a Costantinopoli perdono di importanza rispetto a quello che era gradualmente ovviamente non immediatamente rispetto a quelle che sono le rotte oceaniche che invece si espandono e si affermano sempre di più ma questo ovviamente richiederà tempo poi con altri protagonisti che si presenteranno alla ribalta come la Francia l'Inghilterra e così via la cosa importante è appunto che i grandi commerci si trasferiscono su rotte oceaniche e quindi quei porti del Mar del Nord diventano predominanti come importanza rispetto a quelli mediterranei questa è la cosa di cui stavo stavo facendo accenno un attimo fa il poderoso sviluppo agricolo europeo a inizio proprio nord europeo a inizio proprio nei paesi bassi Fiandre province unite compresa l'Olanda con tecniche nuove di coltivazione i prati rigui con tecniche nuove anche di gestire l'asseminazione e tutto questo insieme alla produzione tessi del commercio fanno sì che i paesi bassi Fiandre e Olanda diventino rapidamente per il finire del secolo sono l'area più prospera di tutta l'Europa con grande disappunto dei cattolici italiani in particolare romani che non capiscono come dei miscredenti eretici protestanti siano così baciati dalla fortuna e benvoluti da Dio vabbè questo è un piccolo fatto di folklore ma piaceva dirvelo il secondo paese che segue l'esempio dell'Olanda dei paesi bassi è l'Inghilterra con un certo ritardo però come vedremo ma già come vedete più o meno a metà del Cinquecento appaiono in Inghilterra dei libri a stampa che riguardano le nuove tecniche agrarie il nuovo libro della fittavolanza non so se si può dire così in italiano e i Cinquecento buoni punti per l'agricoltura diciamo insomma diciamolo con un termine più ordinario nel Cinquecento ovviamente ne ho fatto cenno un attimo fa i commerci oceanici sono in enorme espansione queste vedete sono le rotte che si affermano gradualmente le prime rotte che aprono la strada poi ai commerci successivi rivolti ovviamente non solo verso l'America centrale ma anche l'America del nord l'America meridionale che vengono gradualmente colonizzate i giri del mondo su cui torneremo tra un attimo e le navigazioni verso est quindi non solo lungo le coste dell'Africa ricca ad esempio di minerali preziosi spesso ma anche verso l'India verso l'Indonesia paesi le isole delle spezie una produzione che a noi sembra banale ma che aveva un valore enorme allora verso la Cina e anche verso il Giappone tra il 1500 e il 1700 si realizzano le grandi esplorazioni mondiali oceaniche qua vedete i nomi delle persone più importanti vedete che spesso si tratta di comandanti di origine italiana Caboto era metà Gaetano metà veneziano ma andò al servizio del re d'Inghilterra e fu quello del re d'Inghilterra esplorò appunto il Nord America Giovanni da Verazzano era un fiorentino che fece la stessa cosa al servizio del re di Francia e così via ci sono stati anche ovviamente Vespucci per la Spagna di cui ho avuto già modo di parlare ci sono stati anche esploratori squisitamente francesi e inglesi ovviamente mi piace citare quelli italiani ancora una volta si tratta di tecnologia italiana capacità di navigazione che vengono offerte alle nazioni emergenti e se volete è una fuga di cervelli anche questa in qualche modo nel 1620 in questo contesto verrà fondata la prima colonia inglese stabile in Nord America in realtà c'erano già degli avamposti commerciali quella dei padri pellegrini la cito adesso perché il contesto è quello giusto ed è da questo primo nucleo di protestanti di calvinisti inglesi che trae origine che traggono origine le colonie inglesi in Inghilterra da cui poi prendono vita gli Stati Uniti come sappiamo quindi punto di partenza della nazione oggi tecnologicamente più quell'ho che dita al mondo si trova in questo momento anche se lì all'ora di tecnologia se ne fa poco allora in questo ambito di commerci sempre più intensi verso ogni angolo del mondo che si sviluppano su nuove rotti si verifica una vera rivoluzione commerciale questa è considerata la prima globalizzazione planetaria di globalizzazione vi ho già parlato in forma limitata addirittura in epoca ellenistica ma lì ci riferivamo all'area centro-asiatica sud-est asiatico medio oriente insomma come lo chiamiamo adesso e mediterraneo adesso stiamo parlando invece di commerci che si estendono a tutto il pianeta come vedete e a tutto questo bisogna dirlo la presenza di tecnologia è indispensabile non solo nella costruzione di navi sempre più capaci di tenere il mare caracche sempre più solide robuste capaci appunto di resistere a mari difficili che poi si evolvono gradualmente in golette e in brigantini e così via ma anche strumenti nautici saranno macchine molto complicate queste navi ci torneremo su questo aspetto saranno l'high tech delle tecnologie di questi secoli come complessità tecnica strumenti nautici ovviamente perché per navigare lo sappiamo servono gli strumenti nautici e quelli che ci sono sono spesso insufficienti anche su questo torniamo presto tecniche commerciali e finanziarie per poter gestire i flussi d'armi e poi i flussi commerciali e finanziari chiedo scusa e poi armi da fuoco che hanno un ruolo fondamentale perché l'arrivo di questi colonizzatori commerciali europei in giro per il mondo dove abbiamo visto prima non spesso viene accolto a braccia aperte dalle popolazioni che lì vivono autoctone che spesso possono avere una cultura millenaria ma questi colonizzatori riescono a imporsi con una forza che gli altri non hanno con le armi da fuoco che sbaragliano letteralmente ogni forma di resistenza in tutto questo che cosa succede? succede che avviene anche una rivoluzione agricola quello che viene chiamato scambio colombiano qualcuno lo chiama così arrivano in Europa piante nuove coltivazioni nuove dall'America e dall'Asia ne vedete la lista è veramente lunga e sono importantissime pensate patata pomodoro zucca cacao maes tabacco e così via girasole peperoni fagioli arachidi anche animali come il tacchino e l'anitra dall'Asia anche arrivano nuove piante come la soia la canapa il miglio come vedete e così via e tutto questo comporta un notevole arricchimento della dieta europea con dei prodotti pensate alla patata che possono sfamare popolazioni vaste e molto poveri i ceti più umili quindi sottrarre letteralmente alla fame i ceti più poveri e tutto questo non avviene immediatamente sia chiaro la patata si afferma nel corso del settecento tanto da fare un esempio e c'è anche un flusso inverso ovviamente perché verso l'America dall'Europa verso l'America vanno il frumento l'orzo la canna da zucchero che verrà lì coltivata con costi di produzione molto bassi grazie all'uso della schiavitù in modo sistematico e così via segala avena vite olivo come vedete vite ci hanno messo un po' a imparare a coltivarlo oggi gli americani sanno fare degli ottimi vini come li sappiamo fare noi per non dire i cileni ma i bovini il cavallo il cavallo ce l'hanno portato gli europei prima mica c'era e così pure il maiale la gallina quindi è un'economia di alimentare sia rivolta ai vegetali che agli animali che cambia completamente in varie parti del mondo ma quello che cambia sono anche le idee perché andando in giro per il mondo scopri delle cose che neanche immaginavi e Jacques Cartier che è uno di quegli esploratori di cui vi parlavo prima ha esplorato il Nord America la focce del San Lorenzo dove poi si sono insediati i francesi nel Quebec ha fatto a un certo punto questo commento che è molto bello i comuni navigatori dei nostri giorni quindi come lui come Vespucci e così via come Caboto facendo vere esperienze quindi vedendo con i loro occhi non leggendo sui libri hanno conosciuto il contrario dell'opinione dei filosofi e filosofi sono quelle delle università che leggevano tutti sui libri scritti magari da Aristotele migliaia di anni prima e credevano di sapere tutto in questo modo quindi la constatazione di nuovi orizzonti ve lo scrivo qua sotto vedete e nuove realtà piante animali uomini civiltà non cristiane considerate magari di pagani di criminali perché praticano il sacrificio umano ma comunque civiltà diverse non inseribili nel quadro del sapere tradizionale dimostra in modo inconfutabile la limitatezza delle conoscenze classiche quelle tradizionali che ci venevano dai libri antichi bisogna cominciare a pensare in modo diverso questo è il messaggio insomma culturale altra questione importantissima ho fatto cenno un attimo fa adesso ci arrivo è quella degli strumenti di navigazione quindi prima di tutto la cartografia ovviamente per navigare in mari così aperti e sconfinati bisogna disporre di carte opportune quindi diventa fondamentale che qualcuno si metta a tracciarle in base alle informazioni che riportano in Europa i navigatori ed ecco appunto che appaiono dei veri trattati su questi aspetti Apianus ancora una volta vedete Apianus è il nome latino ma in realtà dietro c'è un nome tedesco Peter Bienewitz poi un Gemma Frisius poi invece il nome è proprio olandese il cognome completo Gemma Frisius è un formato da due parole che inventa propone un metodo di triangolazione per riuscire a fare la navigazione in alto mare e ultimo esempio che vi faccio è l'istituzione alla fine del secolo del Gresham College che è una scuola di navigazione e di astronomia di fatto ma la navigazione serve per navigare che è finanziata proprio dalla compagnia dei mercanti che vuole mettersi a fare concorrenza a spagnoli a portoghesi e olandesi su queste rotte che sono così così ricche e remunerative il contributo più importante in questo senso arriva nel 1569 quindi qua a metà ad opera di ad opera di un fiammingo che si chiama Gerard Kramer ma di nuovo noi lo latiniziamo e lo chiamiamo Mercator oppure in italiano mercatore che inventa le coordinate moderne cioè le coordinate ortogonali in cui latitudine e longitudine si incrociano 90 gradi adesso ci arriviamo tra un attimo ovviamente a ricordarle ma che in realtà non sono un'invenzione perché abbiamo visto benissimo che le aveva già usate Tolomeo nel 150 avanti Cristo le usavano gli arabi e ancora prima erano state usate dai cinesi da Susong intorno all'anno 1000 venne ho detto questa è una mappa di di mercatore in cui si vedono bene le longitudini e latitudini che si introciano a 90 gradi ovviamente poi c'è un problema molto complicato di rappresentare sul piano la superficie terrestre che invece è sferica su questo non entro neanche in questi dettagli vediamo un po' la latitudine vi ricordo è la posizione angolare rispetto all'equatore quindi è quest'angolo qui la latitudine 0 gradi qui 90 gradi al polo nord meno 90 gradi al polo sud è facile da individuare mentre la longitudine è un attimino più complicata perché è l'angolo orizzontale diciamo così quindi quello parallelo all'equatore meglio dire ma qua non esiste un punto notevole il polo oppure l'equatore quindi per misurarlo bisogna avere un meridiano di riferimento qua è indicato ad esempio quello di Torino se questo qui c'è Torino questo è il meridiano di riferimento allora il no qua è l'opposto primo meridiano a zero me lo mette qua chiedo scusa ho ragionato da verso la posizione di Torino è data da questo da questa rotazione angolare bisogna scegliere un meridiano di riferimento che è questo e ognuno sceglie quello che gli fa il più comodo quindi all'inizio gli inglesi hanno il loro i francesi hanno il loro i spagnoli hanno il loro gli olandesi hanno il loro e così via ma non è tutto lì perché una volta che abbiamo deciso come vanno considerati e misurate latitudine e longitudine devo anche capire con che cosa li misuro qual è lo strumento che mi permette di fare la misura ed ecco quindi che diventano importanti sempre più importanti strumenti come questo questo è un notturnale che vedete fotografato è la versione notturna dell'astrolabio e l'astrolabio ovviamente viene usato di giorno strumenti importantissimi che permettono di misurare la latitudine quindi l'angolo questo qui verso tra l'orizzontale tra l'equatore e il polo nord o il polo sud insomma secondo di dove si stia si stia navigando è una misura che già vi ho indicato e rimane in auge per parecchio tempo solo nel 1730 si faranno strumenti più precisi in particolare il sestante ne parleremo a suo tempo e vediamo come e perché allora compare questo strumento più innovativo e più preciso invece la misura della longitudine ahimè è una cosa ben più complicata perché che cosa si può basare quella misura una tecnica è quella di fare un confronto tra il meridiano di riferimento diciamo prima Londra ad esempio e il meridiano in cui sono io e questo riferimento si può fare misurando l'ora appunto quindi se io so che in questo momento per me è mezzogiorno perché vedo che il sole è allo zenith sopra la mia testa ma l'orologio che ho in mano mi dice che a Londra sono le 4 vuol dire che io mi sono portato verso occidente di 4 ore su 24 24 è la la rotazione totale dell'intero giorno ma come fare a misurare questo questo è un problema un pochino complicato allora qualcuno pensa di usare in realtà dei metodi empirici per capire qual è l'ora del mezzogiorno a Londra e si usa addirittura una tecnica chiamata del cane ferito che se non fosse per il povero cane farebbe un pochino ridere veniva portato a bordo un cavallo un cane che era stato ferito apposta prima di salpare e prima di salpare era stato bendato la ferita era stata bendata con delle bende ovviamente nei giorni successivi durante la navigazione le bende che erano state tolte al cane prima di salpare a Londra venivano stropicciate si riteneva che in questo modo il cane sentisse lo sfregolio a distanza delle bende e si mettesse a latrare e si pensava che questo potesse essere un metodo per capire quando un orologio fisiologico insomma del cane quando era l'ora del mezzogiorno a Londra chiaramente non funzionava allora si provarono anche delle tecniche più scientifiche in particolare metodi astronomici e non c'è da stupirsi di questo perché sappiamo che il passare del tempo come noi lo percepiamo come l'abbiamo percepito per millenni prima ovviamente di arrivare al rinascimento era una misura di eventi astronomici del sorgere del sole del sorgere delle stelle del tramontare e così via allora se io so riconoscere gli eventi astronomici sono in grado di capire che ora è ma quali eventi astronomici vanno riconosciuti bisogna avere degli eventi di riferimento inequivocabili uno può essere le eclissi solari vanno benissimo le eclissi solari la sfiga è che sono rare succedono una volta ogni tanto e poi succedono solo in alcune zone della superficie terrestre quindi ahimè non possono essere utilizzate esistono altre eclissi però che sono più facili più frequenti più frequenti e sono quelle dei pianeti medicei che ha osservato Galileo nel 1610 ma ahimè lui lo propone subito al metodo siccome è un problema enorme che tutti i navigatori hanno nel 1612 dice facciamola sta roba misuriamo le eclissi dei pianeti medicei sono i satelliti di Giove ma questi sono avvengono tutti i giorni però il problema è che sono difficili da vedere perché servono cannocchiali telescopi molto sofisticati che allora non era facile produrre quindi è una tecnica che è ancora nuova un'altra possibilità è quella di riconoscere eventi astronomici più sottili le cosiddette efemeridi le congiunzioni lunari il fatto che i pianeti o la luna si avvicinassero a certe costellazioni nel loro moto nel firmamento e siccome la meccanica celeste può essere calcolata con precisione ci vuole molta pazienza e un sacco di calcoli se ho un almanacco nautico che mi dice esattamente dove quando avverranno queste efemeridi queste congiunzioni negli anni successivi sono in grado di riconoscere che ora è a Londra dovunque io sia e quindi di fare il conto di cui dicevo prima però questo richiede un sacco di tempo in effetti lo si farà e verranno pronti questi almanacchi lunari vedete soltanto nel 1667 intanto sono problemi grossi allora qualcuno pensa a una soluzione non scientifica questa è astronomica vuol dire studiata ma soluzione tecnica proposta dai tecnologi dai meccanici noi quindi orologi precisi orologi precisi che mantengono l'ora esatta il primo a proporre questa soluzione vedete è già mafriso di cui vi ho parlato prima che mantengono l'ora esatta di Londra man mano che io navigo e sto attraversando l'oceano atlantico per andare verso la giamaica ad esempio il problema è che se voglio misurare con precisione la mia posizione longitudinale in longitudine dopo giorni e giorni di navigazione mi serve un orologio che è mostruosamente preciso serve una precisione vedete pochi secondi di errore al mese che è lontanissimo dalle prestazioni di qualsiasi orologio del tempo talmente lontano che qualcuno aveva detto solo il demonio neanche il demonio è capace di fare un orologio così preciso letteralmente un grande scienziato ha fatto questa affermazione a certo punto arriveranno gli orologi a pendolo enormemente più precisi di quelli precedenti sulla carta potrebbero funzionare ma in realtà in navigazione vanno a remengo perché oscillano con il beccheggio roglio della nave sono soggetti a variazioni di temperatura che dilatano o contraggono gli ingranaggi perdono di precisione quindi ahimè non funzionano è un problema enorme che rimane aperto e vi racconterò più avanti quando e come viene risolto perché è una pagina importante della storia della tecnologia bene andiamo avanti sempre più o meno a metà del 500 1563 a Milano avviene un fatto importante per noi ingegneri viene istituito il collegio degli ingegneri solito è l'ordine professionale degli ingegneri il primo ordine professionale ed è appunto di ingegneri che sono gli eredi dei meccanici rinascimentali ovviamente ed è anche la prima volta che viene definita la parola ingegnere in questo contesto dove ingegnere è colui che ha fa il mestiere ecco come appunto i bottegai medievali il mestiere di costruire ingegni dove ingegno vuol dire congegno marchi ingegno quindi è l'artigiano delle macchine in questo senso originale poi in altre lingue engineer oppure engineer può voler dire qualcosa di un po' diverso secondo il significato che assume in quei paesi la parola ingegno e ingegnarsi ma da noi vuol dire esattamente questo l'ingegnere quindi chi pratica il mestiere è di costruire congegni questo è che compare fostiamoci un po' più a ovest a Torino più o meno negli stessi anni e vediamo che viene costituito qui dai duchi di Savoia una casata con una certa vocazione militare marziale l'arsenale di Venezia nasce prima come fonderia su scala quasi industriale prima che arrivi la rivoluzione industriale con finalità però di fusione di armi e cannoni sia chiaro e copia un sistema organizzativo dove si fanno tutti i processi intermedi che trova il suo modello la sua ispirazione nell'arsenale di Venezia quindi questo è un arsenale come quello di Venezia in questo senso come concezione dell'organizzazione del lavoro però un arsenale terrestre invece che l'arsenale navale a differenza dell'arsenale navale di Venezia e da questi arsenali che un po' alla volta si diffondono in tutta Europa si nascono un po' alla volta le prime scuole tecniche che hanno finalità militari e che come vedremo avranno un ruolo importante in Francia in particolare nel passaggio poi alle università tecniche ma non anticipiamo troppi discorsi che ho detto solo perché è importante citarlo a questo punto bene adesso diamo un'occhiata all'incomodo che sta invece a Oriente nell'Europa nell'Europa orientale sui Balcani ed è l'impero ottomano eccolo qua si sta espandendo sempre di più ne facevo cenno poco fa sta raggiungendo la sua massima espansione in questi anni sotto il sultano più importante Solimano I il magnifico si è meritato anche questo epiteto questo aggettivo che rende Costantinopoli una città magnifica e splendida di moschee di monumenti eccetera ma che ha anche forti veleità espansionistiche vedete come vi dicevo l'Europa orientale profondamente sotto il controllo ottomano tutta l'Africa settentrionale l'Egitto e così via la Mesopotamia la Georgia l'Armenia neanche dirlo ovviamente Moldavia e con mire grosse a sottrarre a Venezia i suoi antichi possedimenti mediterranei che sono Creta e Cipro e proprio nell'ambito della guerra per Cipro che a un certo punto Venezia supportata dalla Santa Lega Cristiana arriva a battaglia contro gli ottomani nella battaglia di Lepato in realtà non è la prima battaglia che avviene a Lepato se ne sono venute altre prima credo anche altre dopo e sono state sistematicamente perse ma questa viene vinta tanto si tratta siamo a Patrasso quindi sulla costa occidentale della Grecia e la coalizione cristiana è voluta dal Papa perché anche il Papa dà molto fastidio ovviamente all'espansione ottomana d'altronde il sultano non nasconde a nessuno che la sua ambizione dopo aver conquistato Costantinopoli sarebbe quella di conquistare anche Roma la seconda città che gli manca della cristianità la prima l'ha già presa a Costantinopoli e sono sostenuti anche dall'imperatore anzi l'ammiraglio è proprio un principe austriaco da Genova e riesce questa grande coalizione una volta tanto gli europei si mettono d'accordo riesce a sconfiggere la flotta musulmana è una vittoria clamorosa che segna il fatto che gli ottomani possono essere fermati non sono invincibili come qualcuno temeva fino ad allora e che viene fermata di fatto l'espansione ottomana ne ha un freno anche se continuerà poi a rimanere pericolosa nel Mediterraneo e gli ottomani continueranno a rimanere pericolosi per almeno un secolo ancora Venezia comunque perde la guerra di Cipro deve lasciare Cipro ai Turchi e poi dovrà lasciare anche Creta e così via che cosa c'è di notevole dal punto di vista tecnologico in questa battaglia è una battaglia combattuta da centinaia di navi dove le navi sono appunto le migliori navi che allora solcavano il Mediterraneo navi da battaglia le galee che come vi ho già spiegato erano il meglio delle costruzioni meccaniche dell'epoca quindi è una battaglia fortemente tecnologica Venezia da sola la città più coinvolta contribuisce con 109 galee sulle totali 206 della flotta cristiana ma insieme alle galee alle tradizionali galee di cui abbiamo già parlato ci sono anche sei navi rivoluzionari sono le galeazze cioè galee molto grosse è una grossa nave da guerra inventata proprio per questa battaglia che ha un ruolo decisivo che cosa ha di strano la vedete rappresentata qui in questo modellino che si trova al museo navale di Venezia tra l'altro e è una nave in cui la configurazione del ponte è completamente nuova ci sono i soliti evogatori ci sono le vele ovviamente per sfruttare anche i venti ci sono dei cannoni a prua e anche a poppa ma ci sono specialmente cannoni di grosso calibro lungo le fiancate che permettono quindi a questa nave di diventare un'arma d'attacco micidiale non si erano mai visti impieghi di questo tipo in battaglie così importanti è l'evoluzione della galea ripeto e a questo punto segna un nuovo modo di fare la guerra navale una guerra navale che fa uso sistematico delle artiglierie posizionate lungo le fiancate e verranno installate anche sulle navi prive di rematori le galei galeoni come sappiamo che navigano negli oceani ecco un'applicazione di questo tipo la troviamo proprio in Inghilterra Inghilterra sul finire del secolo ecco qui è un paese che ormai è stufo di fare fare i pecorai relegati lì nel nord dell'Europa e decide di espandersi verso mercati più allettanti e quindi comincia a fare la guerra navale agli spagnoli ai galeoni spagnoli che tornano carichi d'oro come abbiamo già visto dalla Spagna e per fare questo dà la licenza la patente di corsa si dice anzi a dei pirati che sono appunto i corsari perché hanno la patente di corsa il più famoso è Francis Drake che oltre a fare queste cose anzi nell'ambito di queste imprese antispagnole la fate liberamente quindi c'è una situazione di conflittualità latente tra non sono non è la flotta ufficiale sono corsari ma autorizzati tra la Spagna e l'Inghilterra c'è un clima crescente di ostilità ma nel 1577 Drake appunto in questa ottica realizza il giro del mondo è il secondo dopo Magellano che riesce in queste imprese ci riesce tra l'altro con molto maggiore successo le navi di cui disponi sono migliorate tantissimo nel giro di una cinquantina d'anni qua vedete la sua ammiraglia in realtà è una nave abbastanza piccola si vive molto sacrificati a bordo però è molto migliorata rispetto alle navi che usava Magellano vedete che ha i cannoni è una grossa caracca ha i cannoni lungo le fiancate eccole qui e queste stesse navi vengono poi usate nella battaglia navale che ferma l'armata invincibile di Filippo II che nel 1588 stanco dei soprusi degli attacchi degli inglesi decide di conquistare l'Inghilterra ovviamente gli va male perché Elisabetta prima rimane salda sul trono e anche lo sconto tra un mondo protestante inglese e un mondo fortemente cattolico spagnolo resta salda sul trono e alla vittoria contribuisce anche in modo determinante la flotta inglese e non che la flotta spagnola fosse meno potente ma diciamo che gli inglesi erano pronti ho per inciso per costruire queste flotte sia quella della battaglia di Lepato che di questa che è avvenuta 17 anni dopo gli spagnoli hanno disboscato completamente una gran parte della Spagna ancora una volta vedete l'uso indiscriminato del legno porta poi a disastri di equilibrio ecologico di cui la Spagna ha sofferto per molto tempo e in parte soffre ancora bene arriviamo a Roma bene parlare anche a Roma con l'istituzione del calendario gregoriano lo vuole Gregorio XIII quello che succede è che ci si rende conto che rispetto al calendario giuliano istituito da Giulio Cesare ve lo ricordate nel 45 avanti Cristo 45-46 in quegli anni lì aveva un errore quel calendario giuliano e un po' alla volta accumulava quindi un ritardo giorno anzi un anticipo a dire la verità in questo caso prima c'è ritardo in questo caso c'è l'anticipo di di qualche ora all'anno apparentemente è un ritardo minimo che può essere tollerato ma non è di qualche ora è di qualche minuto credo chiedo scusa ma in realtà al trascorrere anno dopo anno succede che si crea uno sfasamento tra il calendario terrestre e invece l'anno siderale astronomico e questo non è non dà tanto problemi astronomici a Gregorio XIII ma gli crea dei pasticci grossi nella celebrazione della Pasqua che va il giorno di celebrazione va valutato guardando qual è l'equinozio di primavera ma se l'equinozio di primavera lo faccio cadere nel momento sbagliato perché il mio calendario è sballato va a finire che festeggio la Pasqua a Natale o cose del genere cose intollerabili evidentemente e quindi si istituisce una commissione di astronomi una commissione cattolica a Roma che si fa i suoi calcoli per bene e crea il nuovo calendario che si chiama calendario gregoriano che cosa ha di diverso rispetto a quello giuliano beh la differenza è scritta qua vedete è che non è vero che tutti gli anni multipli di 4 sono bisestili si fa meno di considerare bisestili gli anni secolari che non sono divisibili per 4 quindi ad esempio il 1700 che non è divisibile per 4 non è bisestile il 1800 non è divisibile per 4 non è bisestile il 2000 invece è bisestile cose del genere no? spero di averla detto giusta ma il concetto l'avete capito allora anche così ovviamente non è che le cose siano perfette perché stiamo cercando di correggere con una matematica discreta quella dei giorni interi un evento astronomico che è continuo che è quello della durata dell'anno siderale e l'errore che permane fa sì che ci sia appunto si accumulino due giorni di errore ogni 10.000 anni io direi che possiamo stare abbastanza tranquilli nella nostra vita non avremo problemi di vedere una nuova correzione del calendario ovviamente bisogna rimettere in linea il calendario civile anzi religioso con quello siderale per questo motivo il 4 ottobre ha come giorno successivo non il 5 ottobre ma il 15 ottobre come dire il 5 ottobre il 6 ottobre il 7 ottobre fino al 14 ottobre del 1582 non sono mai esistiti altre notevoli imprese a Roma tecnologiche di questa epoca beh altra è la costruzione della cupola di San Pietro in Vaticano eccola qui la terza grande cupola italiana vi ricordo la prima è quella del Panteon di cui abbiamo parlato già varie volte poi la cupola di Santa Maria del Fiore a Venezia addirittura leggermente più grande e con misure del tutto confrontabili come diametro ma ad un'altezza ben maggiore ecco che arriva il cupolone come lo chiamano i romani molto affettuosamente di San Pietro progetto originale di Michelangelo Buonarrotti progettato ormai in tarda età doveva essere addirittura più ribassato a somigliare di più alla cupola del Panteon ma quando poi Giacomo della Porta vide di realizzarlo la realizzazione di Giacomo della Porta non si fidò temette che sarebbe collassato e quindi lo rese un po' più slanciato un po' più alto 42 metri di diametro 14.000 tonnellate di peso ancora una volta una formidabile dimostrazione delle capacità degli architetti italiani impareggiati in questa epoca sicuramente nel resto d'Europa e ancora per un bel po' altre cose a cui assistiamo in quest'epoca sono la comparsa di interessi urbanistici sia nelle città vi ho già parlato ad esempio degli acquedotti ma ci sono anche modi diversi di concepire il tracciamento delle strade ma la cosa più importante direi da un punto di vista urbanistico è l'invenzione delle fortificazioni poligonali già intuite dai tecnici del secolo precedente come in particolare di Giorgio Martini ma che adesso vengono portati alla realizzazione completa e l'esempio più splendido è uno dei primi in assoluto è la città di Palmanova che sappiamo dove sta sta in Friuli che la Serenissima fa costruire perché in quella posizione perché è una posizione difensiva come vi dicevo prima nel caso di un'invasione ottomana gli ottomani non sono molto lontani poi a un certo punto minacciano per ben due volte Vienna venendo respinti ma insomma Vienna non è poi chissà dove chi progetta questa città fortificata questa città fortezza è un condottiero e ingegnere nobile veneziano Giulio Savornian qua di Uvato da un grande tecnico italiano dell'epoca Bonaiuto Lorini il quale poi anni dopo raccoglie tutte le sue conoscenze le sue esperienze di architetto militare in un trattato come lo vedete il trattato delle fortificazioni ancora una volta questi trattati tecnici con apertura in particolare verso la matematica ecco qui come si presenta Palmanova questa è una fotografia aerea e questa è una mappa dell'epoca si vedono bene le fortificazioni con i bastioni muri piuttosto bassi ma con i terrapieni dietro che li rendono estremamente robusti e con dei bastioni dove porre delle artiglierie che con il fuoco incrociato impediscono agli assalitori agli assedianti di attaccare le mura quindi è un'idea rivoluzionaria di difendere le città una concezione totalmente diversa da quella del castello medioevole o tra l'altro vedete vi faccio notare l'assetto urbanistico interno con una pianificazione che è tutta diversa da quella tradizionale delle città mediovali con strade tortuose e non definite a priori ma sviluppatasi spontaneamente ecco saranno poi altri i paesi che porteranno a grande diffusione queste tecniche difensive ma appunto vi ricordo che nascono proprio come esigenza di difesa dalle armi da fuoco dalle bombarde vi ho parlato delle guerre di religione in Francia nel mille sotto Enrico III a metà circa del secolo seconda metà del secolo dopo aver servito a lungo per il re Enrico III un suo ingegnere Jacques Besson riprendendo le tradizioni dei trattati di cui vi ho parlato pubblica questo nuovo libro il teatro degli strumenti e delle macchine il titolo in realtà è latino io ve l'ho tradotto in cui raccoglie le sue esperienze e le sue intuizioni questo è il frontespizio del libro questa è una delle macchine che vi vengono disegnate vedete che qui c'è una vite lavorata in legno ad un tornio vedete qui l'esempio del tornio e che addirittura riesce a lavorare poi una vite su un supporto conico su una forma conica quindi una lavorazione particolarmente complessa altra cosa che concepisce Besson è una ruota idraulica di tipo innovativo con le pale concave tale quindi da riuscire a cogliere meglio l'energia a captare meglio l'energia dell'acqua quindi è una prima intuizione di turbina che arriva anche nel mondo europeo non è l'unico ingegnere di Enrico Terzo che si diletta in questo tipo di libri questo è un altro e stavolta si chiama Agostino Ramelli come vedete pubblica il libro un po' di anni dopo perché è costretto ad aspettare che scadano i diritti di Besson altrimenti lo avrebbe pronto subito anche lui ed è forse anche più notevole questo libro tra l'altro è scritto in italiano le diverse e artificiose macchine come vedete ovviamente con le doppie come le volevano loro a quell'epoca dove si vedono rappresentate ricchissimo di tavole di disegni 194 tavole dove ci sono ponte ruote idrauliche telai per tessere ovviamente gru argani fonderie eccetera alcune delle quali magari non vengono realizzate subito ma vi faccio notare due cose la qualità del disegno quanto è migliorata rispetto alla a quelle che erano invece le capacità dei tecnici per i dinamici dentali tutto l'insegnamento delle tecniche di rappresentazione tridimensionali prospettiva sonometria eccetera qui ormai sono colte e usate a pieno titolo faccio notare altra cosa che anche qui compare una ruota simile a quella di Besson ovvero una prototurbina altre cose che si trovano nel trattato vedete macchine anche sofisticate questa è una pompa aspirante e premente una versione moderna della pompa di Ctesibio macchine per altre lavorazioni anche meccanismi piuttosto complessi questi grossi organi meccanici sono sempre pensati in legno sia chiaro alcuni componenti possono ormai diventare di metallo ma la macchina fondamentalmente rimane di legno con ingranaggi mediante questa lanterna e questi denti della ruota dentata e altre macchine che vengono disegnate e progettate certamente realizzate in quest'epoca ve ne ho parlato a Iosa sono ovviamente le armi da fuoco le armi da fuoco che evolvono verso soluzioni sempre più perfezionate come testimoniano queste tavole con pezzi che ormai possono essere lavorati e prodotti in serie quindi prime forme di meccanizzazione anche se la parola è un po' impropria perché la produzione in serie vera e propria la vedremo solo due secoli dopo e sia chiaro però qui ci sono i primi tentativi in questa produzione ripetitiva di cose simili diciamola così e anche tecniche meccanismi nuovi per le armi da fuoco come l'innesco a pietra focaia che vedete disegnato e nell'animazione in funzionamento lì sotto supera le tecniche precedenti con la miccia e con la ruota che avevamo già visto e presto viene integrata con la cartuccia inventata addirittura qualche anno prima la cartuccia è una cosa avvolta in carta da cui cartuccia appunto che contiene cosa c'è avvolto dentro la polvere correttamente dosata e la palla quindi si semplifica anche lì è una soluzione per rendere più veloce e più automatico il caricamento dell'arma da fuoco anche qui ci saranno un certo punto degli sviluppi ma come dicevo prima per la produzione in serie bisognerà aspettare un paio di secoli tecnologia più tranquilla qua ricorda quella del naspo rotativo di cui vi parlavo all'inizio della lezione compare a Danzica dov'è Danzica? Danzica oggi diciamo che è in Polonia ma in realtà a quell'epoca era una città di cultura tedesca e ci abbottava tra gli altri Anton Müller che era un artigiano appunto tedesco il quale costruisce un telaio per nastri anche qua potremmo leggerci un'eredità delle intuizioni leonardesche però senza andare nemmeno lì la cosa importante da notare è che anche lui ha l'intuizione di creare una macchina che in modo automatico in modo automatico vuol dire con un unico addetto senza bisogno che intorno ci stiano due tre persone una sola è in grado di tessere dei nastri quindi delle strisce e anche non uno solo ma più di uno contemporaneamente perché nastro? nastro è una striscia di tessuto abbastanza stretta e quindi più facile da lavorare che un tessuto molto aperto lì bisognerà aspettare del tempo però questa è già una macchina automatica e qual è l'effetto? lo vedete qui questo è un fatto importante da tenere in conto sommesse dei salariati e distruzione di queste macchine perché questi si ribellano e si lasciano andare a sommesse? perché ovviamente laddove lavoravano tre persone ne basta uno due rimangono senza lavoro questa macchina che portano automazione sono causa di disoccupazione l'imprenditore le vuole ci guadagna ci investe gli costano un sacco di soldi l'operaio quello che poi Mars chiamerà il proletario invece perde il lavoro che è l'origine del suo modesto benessere ecco la macchina si diffonde anche in altri paesi perché le innovazioni tecnologici è molto difficile frenarle non si riesce praticamente mai Olanda Germania Svizzera Inghilterra però ovunque ha le stesse reazioni vedete a Leida a Londra in Germania per cui a un certo punto bisogna arrivare a emanare delle leggi che ne limitino l'uso per garantire ovviamente continuità di lavoro agli addetti ai salariati ovviamente fino a un certo punto e a un certo punto si diffonderanno sempre di più e si tratta di un'intuizione nuova di un passo se volete un po' timido verso la rivoluzione industriale è molto in anticipo quello che sta succedendo adesso qui sulla rivoluzione industriale ma si sta andando qualcuno ha le intuizioni che la direzione è quella pure con i conflitti sociali che ne derivano allora facciamo un salto in Inghilterra dieci anni dopo in 1589 avviene un passaggio simile ricordiamoci che siamo in un periodo estremamente freddo per l'Europa nella piccola glaciazione e quindi avere delle macchine da maglieria ecco che gli inglesi si svegliano cominciano a lavorare la lana loro stessi avere delle maglie da maglieria che per comporre a maglieria gli indumenti automatichi diventa importante la maglieria è importante per creare ovviamente stavo dicendo calze maglioni tutti indumenti che permettono di stare caldi in inverno e William Lee è la persona geniale veramente geniale che ha l'idea di costruire una macchina che esegue lo stesso lavoro che i magliai facevano a mano io non so se voi li avete visti io avevo una nonna quando ero bambino che era capace di lavorare ai ferri le maglie mi faceva dei bellissimi maglioni era un artista veramente è andata persa credo in gran parte con la tradizione ma in realtà nei secoli passati c'era e chi ha pensato di automatizzarla per primo è stato questo signore inglese risultato beh risultato siamo all'epoca della regina Elisabetta I è un anno dopo la vittoria sull'invincibile armada che avvengono queste cose rifiuta di dare il brevetto di dare il diritto a questo signore di vendere la sua macchina chiedendo l'idea della sua macchina il disegno della sua macchina chiedendo in cambio i diritti brevettuali perché per difendere proprio il lavoro dei magliai a mano come dicevo poco fa quindi la macchina all'inizio ha scarso successo in Inghilterra lui a un certo punto cerca di andare in Francia per vedere se in Francia in quel momento la Francia è un paese molto più ricco e potente dell'Inghilterra se magari lì si trovano persone più interessate però la cosa notevole non sappiamo poi come è andata a finire che se aspettiamo 70 anni vedete nel 1660 in Inghilterra dove all'inizio c'erano state queste difficoltà queste ostruzioni questi impedimenti veri e propri anche giuridici sono in funzione 650 di queste macchine ed è un gran bel successo sono un numero notevolissimo e nel 1673 anni dopo Carlo II il nuovo re inglese addirittura la sostiene era un fanatico della tecnologia quel re inglese lo ritroveremo e quindi in questa sua attenzione alla tecnologia sosteneva questo tipo di macchine erano passati completamente cambiati completamente i tempi rispetto a Elisabetta I e con questo ecco qua che cosa succede si afferma l'industria la naia tedesca l'inglese e l'Inghilterra che era prima esportatrice di lana grezza diventa esportatrice di abiti di lana in altre parole vende prodotti con un valore aggiunto molto maggiore ed è questa macchina uno dei questa idea della macchina non solo la macchina una proprio dei punti da cui poi germoglia più avanti la rivoluzione industriale ma non tutto è così all'avanguardia in Inghilterra altra invenzione di questa epoca è il gabinetto gabinetto a sciacuone che viene concepito da un cortigiano da John Harrison Arrington chiedo scusa per la sua madrina la regina Elisabetta appunto però viene rifiutato con sdegno dalla regina e da tutti le persone di corte perché viene considerata un lusso inutile e vizioso le persone che per bene non usano queste cose qua evidentemente non c'erano evidentemente le attenzioni igieniche che abbiamo noi pensate che odore si poteva sentire passando vicino ad un gabinetto senza lo sciacuone ecco infatti era quello che succedeva proprio a Versailles un secolo dopo il re di Francia costruisce il suo palazzo a Versailles e i bagni non avevano lo sciacuone e le cronache dicono che quando si passava di fianco a un bagno si sentivano degli olezzi terribili quindi l'attenzione igienica europea è molto più arretrata ve l'ho fatto già notare un'altra volta rispetto a quelle delle grandi civiltà orientali in particolare della Cina Passiamo in Olanda e in Olanda in questo periodo stanno prendendo corpo azioni di progresso in campo agricolo notevole con grandi operazioni di bonifica prosciugamento di paludi costiere ovviamente questo si ottiene creando delle dighe costiere e anche adottando delle pompe che drenino l'acqua prosciugino chiedo scusa le paludi per renderle disponibili all'agricoltura oppure al pascolo quindi c'è una grossa attenzione verso la costruzione di pompe e pensate che nel giro di poco più di un secolo sono 140 anni vengono registrati ben 100 brevetti per pompe di vario tipo che sfruttano le idee più strane addirittura viene recuperata la vite di Archimede abbinandola a una ruota a vento la ruota a vento viene usata sistematicamente non solo per macinare il grano ma anche per azionare tanti meccanismi diverso in primis le pompe che devono andare 24 ore su 24 per garantire appunto il drenaggio dell'acqua di queste aree ma vengono usate anche in altri contesti le ruote a vento l'Olanda è ricca di 20 e quindi è una risorsa che è naturale sfruttare come sorgente di energia meccanica ecco qui il tipo di mulini che si affermano proprio in questa epoca in Olanda è la versione moderna del mulino a torre con torretta girevole quello si chiamava mulino a timone se vi ricordate anche qui c'è il timone lo vedete qui però la costruzione inferiore è in muratura quindi è rigida ruota solo il meccanismo superiore con la torretta alla quale è incardinata la ruota a pale e va diretta ovviamente verso il vento a secondo della direzione del vento attenzione le pale hanno delle vele che vanno ridotte oppure allargate a secondo dell'intensità del vento con poco vento stanno tutte distese con tanto vento invece vanno ridotte altrimenti il vento rischia di distruggere il mulino quindi aziona anche questa è una macchina molto complessa e il suo azionamento il suo controllo impone dei problemi non banali ma è preziosissima perché fornisce gratuitamente a parte i costi di investimento gratuitamente energia meccanica come sappiamo è estremamente preziosa dietro a queste realizzazioni ci sono anche i nomi di grandi ingegneri il più importante di tutto è Stevino che in realtà si chiama in italiano Stevino in olandese Simon Steven che è un ingegnere un idraulico al servizio tra l'altro di Guglielmo Dorange che è il principe che guida la rivolta olandese contro contro gli spagnoli ma lui è anche un matematico uno scienziato è uno di quelli che è molto attento agli sviluppi della cultura scientifica sud europea in particolare italiana ad importarla ammiratore di Archimede impara la matematica di Pacioli di cui vi ho parlato anticipa gli esperimenti di Galileo addirittura quindi pensate che persona che personalità creativa e curiosa è questo signore ma è anche un ingegnere perché è uno di quelli che inventano queste pompe di prosciugamento di cui vi dicevo azionate da ruote a vento progetta le fortificazioni appunto nell'ambito della guerra contro la Spagna della rivolta contro la Spagna progetta varie macchine ma anche dei momenti di di relax di di divertimento si dedica anche a questi aspetti costruendo i carri a vela europei eccoli qua la prima volta che appaiono in Europa dei carri spinti dal vento abbiamo detto poco fa che lì ce n'è tanto di vento è questa l'inventa lui per quindi i pieghi ludici stavo dicendo e faccio notare che in effetti non è un'invenzione completamente originale perché abbiamo visto che anche i cinesi intorno al 550 dopo Cristo avevano fatto cose simili ma tutto questo succede mille anni dopo dalle nostre parti in Europa altro signore importante è Cornelizon che è pure un ingegnere inventore di macchine varie addirittura una segheria completamente azionata dall'energia del vento quindi da ruote idrati da ruote a vento segheria che è importantissima stanno sviluppando la più importante flotta mercantile militare del mondo in questi anni gli olandesi sembra di no ma è così e quindi l'uso del legno che vanno a procurarsi magari in Scandinavia la lavorazione del legno è importantissima una segheria che è completamente automatizzata con ruote a vento è certamente una cosa notevole ma ci sono anche pompe di vario tipo come vedete pompe centrifuge è la prima ancora una volta vedete Giorgio Martini che salta fuori perché era stato già lui a concepirla questa pompa ma poi ecco una tecnologia che viene ripresa in nord Europa come vi ho detto notate che non essendoci cascate la ruota idraulica era meno importante in Olanda rispetto alla ruota a vento e poi un'altra cosa che fiorisce in questa epoca in Olanda è l'ottica applicata delle lenti nel 1595 in realtà è un po' contestata questa paternità ma io ve la riporto come viene scritta in molti libri un ragazzo piuttosto giovane inventa il microscopio a due lenti si chiama Zacharias Janssen come vedete siamo nel 1595 mette insieme due lenti invece che una sola le lenti singole c'erano già le abbiamo viste nell'uso degli occhiali ma mettendone in serie due lui si accorse di ottenere un potere di ingrandimento all'inizio modesto ma comunque certo di tre volte o nove volte e quindi nasce in questo modo il primo microscopio allora che il microscopio si è comparso in quegli anni è certo che sia stato proprio questo ragazzo un attimo più contestato più discusso dibattuto di certo bisogna dire che anche in questo caso c'era stata un'anticipazione in Italia di studi di questo tipo ad opera di Francesco Maurolico come vedete e specialmente questo secondo nome torniamo come vedrete Giovanni Battista Dallaporta che si era occupato tra le tante cose che ha studiato anche di ottica vedete il titolo del libro l'ottica delle riflessioni la lavorazione delle lenti d'altronde sappiamo che è arrivata in Olanda non è nata spontaneamente lì ma è stata portata da artigiani italiani un pochino come quelli che erano arrivati con la lavorazione della carta a Norimberga un secolo prima nel 1608 un'invenzione analoga sempre in Olanda è quella del cannocchiale in questo caso l'attribuzione agli persi è più accreditata d'altronde vedete che qui c'è proprio una lettera che reca la data e c'è anche la firma anche se poi c'è stata una richiesta di brevetto che per non mi ricordo qualche motivo non è stata concessa e l'utilità del cannocchiale è forse addirittura più importante di quella del microscopio in questo momento perché ha un impiego in navigazione fondamentale permette di vedere da lontano se la nave che si sta avvicinando è quella di un pirata che vuole salirmi o è una nave amica con cui posso alla quale posso avvicinarmi tranquillamente quindi gli impieghi a finalità militari e commerciali è certamente notevole qualcuno dice che era comparsa già prima in Italia questa la riporto come curiosità quello che certo era che la conoscenza del cannocchiale non era così diffusa in Italia allora e viene resa nota proprio tramite l'Olanda tramite l'evento che vi presento facciamo un salto rapido al 1620 stiamo per concludere la lezione e arriviamo al signor Drebbel che è quello che vedete rappresentato qui anche lui è un inventore molto fantasioso il quale a un certo punto pensa di costruire un stomarino il primo stomarino funzionante di cui abbiamo notizia lo costruisce questo olandese Drebbel nel 1620 mentre è in Inghilterra la corte di Giacomo I che è succeduto a Elisabetta I e addirittura ci fa navigare sott'acqua allo stesso re Giacomo I che si diverte moltissimo fare altre cose che inventa Drebbel sono costruisce l'acquedotto per una città olandese un orologio a moto perpetuo ma in moto perpetuo in realtà è alimentato da un gradiente termico quindi non è una violazione del principio di conservazione dell'energia e un incubatrice per polli sembra una stupidaggine ma è dotata di un dispositivo a retroazione ed è il primo di cui abbiamo un'azione notizia in epoca moderna quindi è certamente interessante e poi anche lui costruisce un suo microscopio a due lenti allora l'Olanda in questo periodo ve l'ho già detto sta vivendo un poderoso sviluppo borghese di produzioni artigianali e mercantile ha la più potente flotta mondiale ve l'ho appena detto sta costruendo un impero coloniale commerciale che presto subentra agli spagnoli e ai portoghesi specialmente in estremo oriente ad esempio in Giappone Giappone arrivano per primi portoghesi ma a un certo punto verranno cacciati dai giapponesi e solo i portoghesi avranno il diritto di approdare e commerciare con il Giappone ed è in questo contesto che vengono create le prime grandi società per azioni olandesi in particolare la famosa compagnia olandese delle Indie che farà dei guadagni pazzeschi specialmente nei primi decenni del 600 sfruttando proprio questi commerci così remunerativi ovviamente in tutto questo il ruolo dei libri stampati a carattere immobili dei trattati tecnici di cui vi ho fatto cenno vi ho parlato dei più importanti è un ruolo importantissimo perché permette ai tecnici agli artigiani di non dover andare a bottega per imparare le tecniche si riduce il potere delle corporazioni ovviamente cresce l'importanza delle macchine una volta che ho capito che posso costruire una macchina voglio costruirla una volta che l'ho costruita ho bisogno di meno operai ve l'ho già parlato questa cosa quindi diventa importante anche il ruolo dei capitali con cui che si chiedono a prestito per costruire le macchine per attrezzare queste protofabbriche quindi un processo che era già parso prima nella nostra Italia ecco che compare anche lì si estende in Europa il passaggio dalla bottega artigiana dove ci sono lavorazioni manuali tradizionali alla fabbrica alla protofabbrica dotata di macchine in cui appunto l'artigiano ricco che si dota di macchine diventa una specie di proto industriale e usa i capitali e l'artigiano povero che non sa passare alle macchine va a lavorare a bottega dall'artigiano ricco e diventa un proto proletario diciamo così processo già avviatosi dalle nostre parti ecco che anche questo è un trasferimento se volete socio-economico verso il nord Europa che parte per l'Italia e con questo ho finito questa lezione e vi auguro arrivederci alla prossima e vi auguro